Una pena deve prima di tutto essere dissuasiva, oltre che ovviamente rieducativa nei confronti del condannato, ma quando si parla di dissuasione, la dissuasione ha come presupposto la proporzionalità fra il fatto commesso e la pena che ti viene applicata. Ecco, ritengo che questa proporzionalità sia venuta meno. L'amarezza dei familiari di Caccia dell'Omarino, uccisa martellate per pochi euro. La Corte d'Assise d'Appello a Firenze ha ridotto la pena da 16 a 14 anni di reclusione per Peter Polverini, il 26enne di San Giustino Umbro, che aveva confessato l'omicidio della donna dopo l'arresto nel settembre 2016. Sono state riconosciute le attenuanti generiche, ma per le motivazioni si dovranno attendere 90 giorni. Non si comprende come la Corte d'Appello abbia potuto riconoscere le circostanze attenuanti generiche. Normalmente hanno delle motivazioni, quindi vengono concesse sulla base di un determinato comportamento dell'imputato, che è un comportamento collaborativo con le indagini, un comportamento... Tutta una serie di presupposti che, a mio parere, in questo caso assolutamente non erano individuabili. Il cadavere della donna era stato trovato nella mattinata del 12 luglio 2016 sull'aggretto del torrente Afra, alle mie spalle. Ci troviamo a pochi chilometri dalla centro abitato di Sansepolcro. Il delitto si era consumato nella nottata, una lite per pochi spiccioli, poi degenerata nel sangue. Prima l'ha presa a pugni con una mano chiusa, poi aperta, poi ha tentato di strozzarla, infine ha massacrato il cranio della ragazza con tante martellate, infiarendo sul cadavere anche dopo la morte e senza soprattutto alcun ravvedimento per quello che era stato fatto, né nell'immediatezza del fatto né a distanza di tempo.